Abbiamo, devo dire, siamo davvero molto contenti di avere Paddington 2. Ci sono tantissime pre-aperture, noi abbiamo una post-chiusura, nel senso che grazie alla Eagle che ha sposato poi Richelis, My Child, lo direi anche meglio Anna, noi abbiamo delle attività che verranno fatte durante il festival e poi l'otto abbiamo una doppia proiezione speciale in cui una sarà con i bambini che doneranno il loro biglietto per la scuola, la Plaster School, quindi l'incasso sarà dato alla Plaster School e poi la sera avremo un'anteprima charity, anche quello che l'incasso sarà dato alla Plaster School. Quindi ringraziamo doppiamente Eagle, sia per questa fantastica post-chiusura, sia per questo supporto che ci sta dando. Poi ci vogliamo divertire anche con gli young adult, abbiamo tantissimi youtuber e diciamo che ci siamo divertiti con i The Jackal. Ci siamo divertiti, è ironico, è un film divertente, quindi siamo molto contenti di avere addio con tutti i musiverdi e speriamo di animare con loro veramente, appunto, oltre che con i bambini il tappeto rosso della festa. Mi aspetto di divertirci e divertirli. E poi abbiamo una cosa che è entrata delle masterclass speciali, ne abbiamo una che è entrata stamattina, quindi dopo aver annunciato da Quota Femming con la sua masterclass per il film Plist and Buy, che è l'anteprima internazionale che Alice nella città ha preso e devo ringraziare anche una stupenda Miriam Mauti che ci ha dato una mano a Cannes, che è una nostra consulente, oggi non c'è, è come se ci fosse un bacio da Roma alla Sardegna a Miriam Mauti. Devo dire che oltre a Quota Femming è entrata stamattina, è entrato Orlando Bloom, quindi siamo contentissimi di avere una masterclass con Orlando Bloom, un film... Vabbè, no. A me interessa molto la masterclass che condurrò io. A questo punto il film, esatto, con tutti i diavri Child, perché Sipro è molto impegnato anche nei temi sociali. Quando c'è il film, no? Possiamo dire il film anche per cui, visto che non è in cartella perché non ce l'aspettiamo, siamo davvero contenti questa mattina, il film è Romance, un film in realtà di impegno che parla di un tema scortantissimo come la pedofilia, però non importa. L'intervisteremo Orlando Bloom e faremo anche vedere questo film che sarà un evento speciale di Alice nella città.